In casa della Pistosi si sta entrando velocemente nel clima giusto per la sfida secca contro la Lucchese per la Coppa Italia in programma domenica prossima alle 20.45 allo stadio Marcello Melani. L'allenatore Morgia non potrà disporre degli infortunati Cecchi e De Angelis. Negli ultimi giorni in tema di formazione antilucchese il tecnico arancione ha provato varie soluzioni. 15 giocatori si contendono un posto in squadra. Il portiere Sambo è l'unico certo di giocare dal momento che il polacco Olzak non è ancora a posto con il tesseramento. In difesa potrebbero essere della partita con Lacchione, Nocentini e Molnar, con Giovannelli e Varutti in ballottaggio. A centrocampo potrebbero giocare Buglio, Giordani, Belli e Gambadori con Vianello pronto per ogni evidenza. In attacco sicuri Toledo e Bigoni, in alternativa Peluso e Mini Incleri. Il giovane Carradori, portiere della Juniors, sarà il numero 12. Per quanto riguarda la Lucchese, il tecnico Guido Pagliuca sta preparando una formazione competitiva che svelerà soltanto all'ultimo momento. Se al termine del match permanesse risultato di parità, si farà ricorso ai calci di rigore. Grazie.